Sindaco, domani ci sarà un incontro importante con l'assessore regionale Verì, convocato da Lanci per chiedere aiuto ai comuni, sia per quanto riguarda le risorse economiche, sia per quanto riguarda il personale, per affrontare al meglio la campagna vaccinale. Tanto che ci consente di confrontarci sull'attuazione del piano vaccinale, anche perché è necessario in questa fase che tutte le istituzioni si mettano insieme, si mettano a sistema, perché la priorità è assolutamente quella dell'accelerazione della campagna stessa, alla quale dobbiamo dare credibilità e forza. Per dare credibilità e forza abbiamo capito, in questa prima fase tutti hanno capito, che è fondamentale il ruolo delle strutture comunali, come enti di prossimità i comuni svolgono un ruolo fondamentale, anche di cinghia di trasmissione con le comunità interessate, lo sforzo che stiamo portando avanti tutti, come comuni tutti, è enorme, con il nostro personale, i nostri uffici e continueremo a farlo perché è la priorità assoluta. Però è assolutamente necessario, anche e soprattutto alla vigilia dell'avvio della cosiddetta vaccinazione di massa, che si chiarisca il ruolo, che si istituzionalizzi il ruolo e si definiscano anche le modalità con cui i comuni possono dare questo supporto, anche attraverso risorse umane, strumentali, finanziarie, che da un lato consentono di ottimizzare la campagna vaccinale e dall'altro di non pregiudicare tutte le attività che comunque i comuni devono continuare in questa fase storica così difficile a portare avanti nella garanzia dei diritti e degli interessi dei cittadini. Questo è un aspetto fondamentale che ovviamente deve essere tenuto in piena considerazione sia dalla regione Abruzzo, ma anche e soprattutto dal governo nazionale, perché l'azione che Anci Abruzzo sta portando avanti, attraverso Anci Nazionale, diventerà ovviamente un tema di confronto anche con il governo. E domani sarà anche l'occasione per definire bene alcuni aspetti e chiarire alcuni aspetti del piano vaccinale. C'è un tema che è fondamentale in questa fase, non far perdere credibilità alla campagna e la credibilità della campagna si gioca sulla tenuta delle priorità. Bisogna dare priorità assoluta nella vaccinazione a chi ha più bisogno, a chi è più esposto, perché ogni operazione che va a far saltare questa scala di priorità mina la credibilità della campagna. Non ce lo possiamo permettere, non è giusto, dobbiamo partire appunto da chi ha più bisogno. Ecco perché questa fase che si apre a Teramo questa settimana, che abbiamo fortemente voluto come negli altri comuni, sulle categorie fragili risponde a questo principio e si deve andare avanti in questa direzione. Grazie a tutti.